Tutta la gente di Coriano, i tanti volontari, le associazioni, guardate quanta gente che si commenta da sola e sono due giorni ininterrotti di Fiumana che hanno invaso pacificamente e benevolmente, amorevolmente questo paese sulle colline romagnole. Direi che bisogna ringraziare tutta la gente che si è messa al servizio in questa giornata purtroppo non felice, direi tragica, ma con lo spirito giusto, amichevole, disponibilità verso la famiglia, Marco Simoncelli, tutti quanti. Bisogna ringraziare il Comune e tutti i volontari che ci hanno aiutato anche nel nostro lavoro. Pensa Massimo che si è addirittura mosso il vicepresidente dell'HRC, della Honda, era tornato in Giappone, è partito apposta con il suo staff e pensa che lunedì mattina sono andati sulla pista e hanno trovato un pezzo di tuta rossa e l'hanno portata stamattina a Paolo. Bellissimo, una cosa che Paolo ha preso, credetemi, con piacere, con soddisfazione, ma questo uomo dell'HRC che credeva in Marco, perché poi il mister Nakamoto era diventato lo sposo principale di Marco, che era il suo pupillo, e in un'intervista ultima domenica scorsa aveva detto che il futuro della moto mondiale saranno Marco Simoncelli e Marc Marquez, un altro spagnolo che noi conosciamo. Quindi pensate un po' a quest'uomo, che è duro, lo sappiamo... Un manager di una multinazionale importante come la Honda, certo. Preso un aereo, dopo essere tornato in Giappone, tornato qua con lo staff, ha voluto essere presente, e questa è una cosa che ti fai capire. Ridevano assieme Marco e lui, incredibile. Chi sa in quale lingua? Ma non lo so, quando Marco parlava Nakamoto sorrideva, mai visto sorridere in vita mia, sembrava avessero mangiato e bevuto assieme da una vita. Chissà che non l'abbiano fatto. Ma magari sì, ma la forza di Marco è questa, incredibile. Guarda, vediamo tanta tanta gente del paddock, questo è all'interno della chiesa, grazie alle nostre telecamere, e questo invece è il fuori, non c'è discontinuità tra il dentro e il fuori, è un unicum che ha invaso questa terra e che arriva fino ai piedi del paese. Guardate, questa è la scalinata della chiesa di Santa Maria Assunta. Ho ricevuto messaggi addirittura da Mick Duan, che tutti sanno, di Randy Mamola, che volevano assolutamente venire, non ci sono riusciti, ci sono stati dispiaciuti di non poter venire. Ma, io non so, questo ragazzo ha catalizzato l'intero mondo, incredibile, veramente. Però sembra quasi una scoperta postuma dovuta alla morte, però credo che lui anche in vita riscuotesse questa simpatia a riprova, che era la sua simpatia e non le vittorie che accompagnano la costruzione di un personaggio, ma una sua capacità, pur non vincendo, aveva un seguito incredibile. Oggi lo scopriamo, lo vedevamo anche prima, perché fuori dai box, fuori nel paddock, era tanta la gente che aspettava Marco Simoncelli. Solo Valentino aveva più tifosi fuori dal box, quindi dei segnali e della percezione nella gente c'erano stati. Sì, sì, ma forse noi l'abbiamo, non dico sottovalutati, non l'abbiamo capito. Io credo che Marco per la sua, era la capacità di essere normale. Oggi purtroppo c'è l'incapacità di essere normale, lui era uno di quelli capaci di essere normale. Paddock ha bisogno di queste persone, ha bisogno della capacità di essere normali, Marco lo era, ma lo sarà sempre. Io credo che, guarda, si pensava, io pensavo col papà Paolo, glielo avevo suggerito di fare una fondazione Marco Simoncelli come quella di altri. Un applauso, credo che in questo momento la salma di Marco tra pochi attimi sarà portata dalla camera ardente allestita presso il teatro civico di Coriano, sarà portata attraverso questa scalinata nella chiesa di Santa Maria Assunta. Per il momento ci sono tanti giovani motociclisti, eccola qua, e sono gli uomini del team, proprio in primo piano vediamo Elvio e Federico, voglio citare solo i loro nomi perché erano amici, amici prima di essere compagni di lavoro. Aligi Leganello, il suo capotecnico, poi c'è Ivan Brandi, Marco Rosa Castaldo che è con lui, lo vedete lì dietro, il dottor Costa, il dottor Costa che ha cresciuto come un altro figlio, questo ragazzo un po' come tutti i piloti. Renato, Michele, il tecnico della HRC che lo seguiva per conto della Honda nel box e il papà Marco, la sorella e Keiko. Ed è stata stanotte una cosa incredibile, come tu sai Marco, Massimo, la camera ardente doveva essere chiudere, ieri sera alle sette, hanno dovuto tenerla aperta fino a stamattina alle quattro, perché la gente era in coda e voleva assolutamente vedere Marco. Incredibile. Sì, ci volano in cielo, Don Marco. Eh sì, è già lì. È già lì.